퍼 Sho vediamo begini vediamo tutta la scuola oaaaaah andiamo buon tuoi mi faggado o uai 7 usc vambu Una... Uh! 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 Grazie a tutti. grazie in inglese, ovviamente ma inglese non è fantastico ma posso comunicare molto bene con voi ho alcuni messaggi che i haters ancora mi odiano perché senza te non sei come oggi quindi continui ma più importante sono i miei fani sono sempre in mio parte questo è perché sempre ho un forte con il mio guarda 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 edito 24 karat gold so and then sword for that feeling and based off of that so also the bots the box was built made to mimic the base of the Ballin d'Or trophy so basically this is like the base of the Ballin d'Or Grazie a tutti.